ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco proprio gemma bambini a cosa serve proprio gemma bambini a un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi non compresi nelle classi precedenti altri è commercializzato in italia dall'azienda a bocca spa società agricola informazioni commerciali titolare a bocca spa società agricola concessionario a bocca spa società agricola categoria di appartenenza dispositivi non compresi nelle classi precedenti altri confezioni propol gemma bambini 45 compresse orosolubili 480 mg 21,6 g indicazioni propol gemma compresse bambini ha indicato nel trattamento del mal di gola e delle affezioni del cavo orale come stomatiti afte genciviti associati a bruciore dolore e sensibilità alla deglutizione il prodotto può essere utilizzato anche come protezione preventiva in tutti i casi in cui sia esposti ad agenti esterni offensivi o irritanti freddo fumo smog modalità d'uso per i bambini da 3 a 6 anni si consiglia di sciogliere lentamente in bocca 1 compressa al bisogno fino a 4 compresse al giorno per i bambini da 6 a 12 anni si consiglia di sciogliere lentamente in bocca 1 compressa al bisogno fino a 8 compresse al giorno descrizione e caratteristiche dispositivo medico di classe ii a propol gemma un complesso molecolare frutto della ricerca aboca composto da resine polisaccaridi e lignine ottenuto da gemme di pioppo nero dalla cui resina le api ricavano la propoli europea grazie a un particolare processo estrattivo multifrazione propol gemma si caratterizza per la presenza dei componenti principali tipici della propoli uniti a composti funzionali del tessuto vegetale della gemma di pioppo la ricerca a bocca ha sviluppato cosa ha un complesso molecolare con particolari capacità di protezione delle mucose del cavo oro faringeo la frazione resinosa e la frazione ricca in composti polisaccaridici e lignine agiscono in sinergia formando una barriera protettiva sulla mucosa infiammata che unita alle proprietà antiossidanti dei flavonoidi contrasta indirettamente l'infiammazione questo strato protettivo attivo calma il bruciore riduce l'ipersensibilità alleviando la sensazione di fastidio e facilitando la deglutizione avvertenze si consiglia l'uso a partire dai 3 anni di età non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso un opi a componenti controindicato nei soggetti allergici alla propoli negli asmatici se i sintomi persistono consultare il medico conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore al riparo dalla luce tenere fuori dalla portata dei bambini la data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato componenti e ingredienti sostanze funzionali propol gemma complesso molecolare di resine polisaccaridi e lignine ottenuto da gemme di pioppo nero popolus nidra l in estratto liofilizzato multifrazione titolato in flavonoidi totali e polisaccaridi con peso molecolare maggiore di 20.000 da contiene inoltre zucchero di canna fragola succo liofilizzato sambuco succo liofilizzato gomma arrabica inulina la cicoria aroma naturale di fragola e ciliecia tiglio fiori estratto liofilizzato il processo produttivo utilizzato permette l'assenza di polline derivante da gemme di pioppo fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato